Faremo dei cambiamenti e sicuramente faticheremo ma speriamo di raggiungere la vita. Domenica eravamo a Vallelunga, quanta rabbia per quel detrito? Eh, rabbia, sono cose che succedono alle corse, fortunatamente a noi non succede a tutte le gare, non ci può stare, dai. Cosa si prova a vedere quell'auto accerchiata da appassionati, da gente affascinata da una vettura simile? Beh, questo è il fascino della Femmari. Grazie, grazie a Fabio Baldini e avremo modo di ospitare poi anche nel corso della manifestazione Motion Passion Day a Norma a partire domani mattina. Grazie a voi. Grazie a voi.